Quindi in realtà quello che è aperto al pubblico è l'accademia. Diciamo che Calbò ha lanciato da poco quest'anno un cioccolato che è naturalmente rosa. È la quarta categoria di cioccolato, si chiama cioccolato rubi e deriva da fave naturalmente rose che nel processo di lavorazione del cioccolato mantiene quindi il colore, senza coloranti e senza aromi. Caratteristiche invitanti anche perché no di questo particolare cioccolato? Innanzitutto ha una caratteristica idonistica, nel senso che l'occhio vuole la sua parte quindi un cioccolato rosa non esisteva, erano tutti tristi, marroncini, quindi non così accattivanti. È un cioccolato forse molto femminile ma anche no, ha delle note acidule, dolciastre ma è molto molto delicato e si sposa benissimo con frutti rossi, yogurt, mascarpone e prodotti assimilabili a questi. Il pubblico ci è parso, ha decisamente gradito ecco? Sì, il pubblico ha gradito, qui ho giocato in realtà con Torino quindi c'era la nocciola quindi abbinando rubi e nocciola e anche un po' il periodo natolizio che si sta avvicinando quindi mettendo le cinque spezie tipiche del pan di zenzero. Hai voluto essere nella parte con i capelli rosa e vestita di rosa per cui era perfetto? Ma in realtà quelli nascono prima del rubi quindi io sono rosa, fucsia e viola prima ancora che nascesse il cioccolato, magari l'han fatto per me.